E' incredibile, qua mi sta facendo delle mezz'ora in completa solitudine. Non so neanche a quanto disti il prossimo villaggio, in modo da poter trovare, boh, almeno uno spiazzo per dormire qua, non c'è un cazzo proprio, ma niente. Uccelli, vento, ruscelli e la vegetazione, quella tipica della montagna. Dopo aver lasciato il lago delle mille isole, c'è una strada che si stacca e si collega a Huangshan City. Ora le devi attraversare, questo è il diavolo di Huangshan. Porca vacca, sto andando via ai 4, 5, 6, 7 all'ora. Mi dicono che ci sono ancora 3 chilometri di salita, però questa velocità qua vuol dire un'altra ora del suo ore. Eh dai, è voluto la bicicletta e adesso pedali caro mio. L'abbiamo in grado di mare. Sì You we oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo momento non mi sto divertendo proprio affatto. Intanto qua passano le trebbie. Grazie a tutti. In un posto dove poter riparare la leva del freno, almeno temporaneamente, perché non so se riusciranno veramente a ripararla. E' aspettando i nuovi copertoni. Qua dicono che Chao Yang è il top. E' aspettando i nuovi copertoni. 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 nini c'è nè? c'è l'està un bateau Non c'è l'impianto, non c'è l'impianto, non c'è l'impianto. 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 Non c'è l'impianto.